Ugo Cassano, classe 1925, è oggi uno dei tanti pensionati volontari del sindacato SPCGL. Quello che lo rende straordinario è che a 92 anni continua a prestare servizio tutte le mattine negli uffici della CGL Reggio Sud di via Bismantova, rispondendo con grande puntualità e professionalità a tutte le persone che si rivolgono al sindacato pensionati della Quarta Lega Cittadina. Nato a Livorno da una famiglia antifascista, Cassano si è trasferito a Reggio Emiglio quando aveva due anni. Iniziò a lavorare ancora ad adolescente in una piccola azienda cittadina. Aveva soltanto 14 anni. Nel 1942, non ancora maggiorenne, Ugo entra alle officine reggiane dopo una scuola di apprendistato. L'esperienza è stata positiva perché si doveva fare tutti i giorni, per esempio uscire dalla fabbrica a fare delle colonne cosiddette, colonne mute, cioè con 40, 20 o secondo le volte di operai che giravamo per la città per dimostrare e mostrare la lotta delle reggiane e avere la solidarietà dei cittadini e dei commercianti soprattutto. Il 28 luglio del 43 assiste impotente a una delle giornate più tristi della storia delle reggiane. Purtroppo ho vissuto anche le tragiche giornate, la tradica giornata delle cittadini e delle reggiane dove appunto furono uccisi, mi sembrano, nove persone, ferite altre. Io mi sono salvato perché ero appoggiato contro il muro e quindi non sono stato colpito ma uno davanti a me purtroppo l'ho visto cadere. Il suo ingresso in CGL avviene da subito negli anni 40, contemporaneamente il comitato di agitazione che occupò la fabbrica. Alle reggiane Cassano resta dieci anni, poi sente l'esigenza di tentare altre esperienze lavorative fino al 1956, quando entra nel corpo dei vigili urbani, l'attuale polizia municipale in cui rimarrà fino alla pensione. Sono andato in pensione a 59 anni, ero ancora abbastanza giovane però sentivo in me di dare ancora dei contributi. Mi sono presentato autonomamente al sindacato provinciale dello SPI e ho detto avete bisogno di un attivista e allora ho incominciato dalla gavetta, chiamiamola così, poi piano piano sono un po' salito di grado nel senso che sono diventato responsabile di una lega, la quarta attuale. L'eccezionale opera di volontariato, svolta in tutti questi anni da Ugo Cassano alla CGL e al sindacato pensionati, ha spinto la segreteria provinciale dello SPI e il coordinatore della sede a Reggio Sud a premiarlo con una medaglia coniata con l'oro sequestrato alla P2 di Liciogelli per volontà dell'Associazione Familiari della strage di Bologna. La straordinarietà di Ugo Cassano è che ha 92 anni e grazie ai compagni come Cassano che noi tutte le mattine riusciamo ad aprire le nostre sedi e rispondiamo a tantissime persone. Ugo non solo fa attività al proprio interno dello SPI ma ci aiuta a volte anche al front office che è quella zona sempre più dedicata e anche con competenze molto specifiche. È un punto di riferimento soprattutto per me che ho qualche anno in meno rispetto a lui che ha 92 anni.